Sindaco, dieci anni e adesso siamo alla restrizione. Un'inchiesta nata sul nulla e finita nel nulla. Dieci anni persi per nulla. Un processo inutile che non doveva neanche incominciare. Si aspettava una soluzione in merito, i suoi avvocati avevano fatto di tutto per... Eh ma sa, non essendoci stata costituzione di parte civile né il ricorso da parte del PM, non c'erano quindi la possibilità di altra via che quella di dichiarare in riforma della sentenza precedente che era di condanna quella della prescrizione intervenuta.